Tanto grazie a Delpidio che ci sta dando una grande mano, una grossa mano perché questo sogno possa incominciare piano piano, passo dopo passo a diventare realtà. Ma il mio primo grazie oggi voglio dirlo a voi e il senso di questa visita con voi e per voi va proprio in questa direzione. La gratitudine della Chiesa di Caserta, l'ho detto già nel Tedeum del 31 dicembre, alle associazioni che in tutti questi anni, più di due decenni, hanno tenuto vivo l'interesse della città su questo bene che rischiava ancora per tanti tanti anni di rimanere chiuso alla città di Caserta. Quindi davvero grazie, grazie perché non vi siete stancati, non vi siete rassegnati, non vi siete spenti nell'entusiasmo e nel desiderio di ridare questo bene alla città. Ed è questo l'unico nostro obiettivo, quello di rimettere a disposizione della città dei Casertani e non solo, questa meravigliosa, straordinaria area, circa 33 ettari. Vedervi questa mattina davvero mi emoziona perché vedendo voi in qualche modo io vedo tutti gli altri che dopo di voi potranno venire qui, innanzitutto a fare quello che stiamo facendo, a passeggiare, a respirare aria buona, a incontrarci, a vivere relazioni sane, autentiche e questo è ciò che vogliamo fare. Vogliamo farlo nel migliore dei modi possibili e pertanto stiamo dando vita ad una fondazione, abbiamo fatto diversi passi importanti con l'Istituto Diocesano Sostentamento del Clero, di cui è, come sapete, Presidente il nostro carissimo Don Antonello. Stiamo dialogando perché nelle prossime settimane, ma si tratta davvero di poche settimane ancora, si possa formalizzare anche un protocollo per cui la Diocesi attraverso la fondazione verrà a poter prendere in uso questo bene che noi vogliamo che a nostra volta possiamo mettere a disposizione della città. Stiamo dialogando anche con tante altre realtà, come sapete, come leggete dai giornali, nell'unico interesse che questo luogo non sia più un luogo di morte e questo ci piace dirlo mentre a poche migliaia di chilometri da qui si uccide, si fa la guerra. Anche qui, purtroppo, devo dirvi, quando sono venuto un po' di tristezza mi è nata perché vedere quest'area dove in qualche modo si preparava la guerra. Qui mi hanno detto una volta addirittura c'erano 1200 carri armati in questo luogo dove si pensava alla difesa e mi piace sottolinearlo perché proprio mentre noi parliamo il mondo, l'Europa sta pensando come risposta alla guerra quello di aumentare la produzione di armi. Il 2% del prodotto interno lordo addirittura dovrebbe essere messo a disposizione per promuovere ancora di più gli armamenti. Papa Francesco più volte in questi giorni e anche l'altro l'altro ieri parlando al CIF ha detto che questa è una vera e propria vergogna. Vergogna. Invece noi vorremmo che questo luogo fosse un luogo dove si difende, custodisce, promuove, organizza la vita.